Amici siamo di rientro, sulla carta doveva essere una giornata ottima perché dopo una perturbazione c'è sempre un certo risveglio da parte dei nostri amici con le pinne però purtroppo oggi ancora una volta massacrati dalle bogie, ancora una volta massacrati dalle condizioni quasi inaccettabili si è pescato al limite perché è onda lunga formata con addirittura alzata di vento teso quindi si è pescato veramente male ce l'abbiamo messa tutto, pesci presenti sul fondo in parte soprattutto nella prima giornata però sono usciti un pochino col contagocce non hanno mai lasciato andare a una frenesia che è quella che dovrebbe esserci con queste condizioni quindi diciamo come specie in più sono usciti due serrotti, un'auratella, poi sugarelloni uno addirittura in taglia veramente esagerato tutti gli altri devo dire discreti però nessuna presenza di sgombri, qualche sparaglione, pesce di buca, menola, una tanutella nel complesso è risultato un'uscita un po' sforzata e sotto il tono però ripeto causa perturbazione degli ultimi giorni causa mare ancora un pochino troppo con acqua torbida insaccata, non ce ne sono le condizioni diciamo ideali per gli sgombri che sono presenti perché nelle uscite passate le avevamo già prese anche in discreto numero quindi è solo questione di aggiustare la mira che entra in pochino di alta pressione quella diciamo dell'azzore che rende la temperatura ancora fresca e mare vivo di acqua azzurra e quindi di pesce azzurro 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.